Una delle domande che più spesso mi è stata posta ultimamente riguardo a titoli azionari singoli è che cosa ne pensi delle big tech. Quindi per big tech intendo le aziende, principalmente americane ma non solo americane, tecnologiche ad alta capitalizzazione di mercato, come per esempio Apple, come Amazon, Netflix, Disney, eccetera. Bene, penso che non sia difficile da vedere che aziende come Apple, come Amazon, come Netflix hanno sovraperformato, qualsiasi settore hanno sovraperformato e di gran lunga l'intero mercato. Quindi in questo video andrò a dare una mia opinione rispetto all'attuale situazione delle big tech americane ma non solo in questo momento sul mercato azionario. Ovviamente ragazzi, come al solito ancora prendi partire, quello che vi chiedo, se vi piacciono queste tipologie di contenuti, di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale se già non l'avete fatto, perché in questo modo mi aiutate tantissimo con l'algoritmo di YouTube e in più mi fa molto piacere. Quindi se andiamo a vedere la storia recente, sicuramente questi titoli hanno sovraperformato qualsiasi altro settore. Se andiamo a dare un'occhiata ad un periodo di tempo un po' più lungo che inizia con la bolla delle dot com e finisce con la pandemia del 2020, l'inizio della pandemia nel 2020, i rendimenti dei titoli tecnologici in generale non sono stati così caldi, mettiamola così. Infatti dal febbraio del 1999 al febbraio 2020, quindi praticamente in 21 anni, il Nasdaq ha effettivamente sottoperformato l'S&P 500 ed altri settori, come possiamo notare da questo grafico. E quindi perché io in questo momento non sono così interessato, non dico a tutti i titoli tecnologici, ma soprattutto alle big tech? Bene, i motivi sono principalmente due o tre, quindi in primis c'è sicuramente il fatto che negli ultimi anni i titoli tecnologici hanno aumentato di parecchio le loro valutazioni. Quindi i multipli di valutazione si sono espansi a livelli storicamente molto alti, di conseguenza nel 2021 i titoli tecnologici sono estremamente costosi però rispetto alla maggior parte delle misure di valore. Ciò significa che a mio avviso in questo momento le big tech principalmente hanno meno potenziali di rialzo perché i multipli non possono continuare ad espandersi per sempre ed i margini di sicurezza sono ridottissimi oppure addirittura sono inesistenti. Quindi questo ovviamente potrebbe far sì che molti investitori non si sentano sicuri ad investire in aziende come queste. Un altro dei fattori che mi fa pensare due volte prima di investire in una big tech in questo momento è il fatto che la crescita a mio avviso sia limitata. Che cosa significa? Che le valutazioni in questo momento vanno a scontare già una grande crescita futura. E nonostante siano aziende che negli ultimi dieci anni sono cresciute tantissimo, ci potrebbero essere un paio di problemi nella loro crescita nel prossimo periodo. Il fatto è che più grande diventi e meno grande in teoria è la crescita. Quindi se sei un'azienda da 5 miliardi, per esempio fai un'acquisizione di centinaia di milioni o di un miliardo, a quel punto la valutazione della tua azienda esplode, cresce di parecchio. Ma nel momento in cui sei un'azienda trilionaria o di centinaia e centinaia di miliardi, nel momento in cui fai un'acquisizione non cambierà così tanto le cose. E come ama dire spesso, buon vecchio e saggio Warren Buffett, la dimensione è l'ancora della performance. Mi pare che l'abbia detto anche Malena Napugliese, ma questo è un altro discorso. Quindi dicevamo che molte di queste aziende, di queste big tech, sembra che abbiano anche effettivamente raggiunto il loro mercato totale accessibile. Se guardiamo Facebook, per esempio, che in questo momento ha praticamente 3 miliardi di utenti, gli altri 5 miliardi rimasti su questo pianeta non hanno accesso a internet. Quindi bisogna arrivarci, ma come prima si dovrà lavorare sulle infrastrutture, sulla crescita economica dei vari paesi. E quindi non è un qualcosa che dipende solamente dall'azienda Facebook, a meno ovviamente che non escono fuori con anche tutta una serie di prodotti o servizi per aumentare il fatturato. Quindi il fatto è che queste aziende, queste big tech, sono delle aziende solide, sicure, continueranno sicuramente a crescere, ma la crescita degli ultimi 10 anni è stata davvero esponenziale. Quindi c'è da vedere se riusciranno a mantenere tutto ciò, perché in questo momento stanno scontando, appunto, ancora una crescita elevatissima. Ora stiamo parlando di Facebook, che è un po' un'eccezione, nel senso che Facebook, a differenza di altre, ha fatto un bel periodo di essere sottovalutata per tutta una serie di fattori, tutti i problemi della privacy, Cambridge Analytica, il fatto che molti investitori, appunto, non si fidassero ad investire in questa azienda, l'hanno fatta diventare un'azienda sottovalutata. Quindi è cresciuta effettivamente parecchio nell'ultimo periodo e potrebbe avere ancora, a mio avviso, un margine di crescita. Oppure un altro dei motivi, a mio avviso, da tenere bene in considerazione è il beneficio di questi titoli dovuti alla pandemia, perché, parliamoci chiaramente, la maggior parte di questi titoli ha beneficiato della pandemia. Aziende come Amazon hanno visto incrementare le vendite dall'online proprio perché le persone non potevano uscire di casa di tantissimo. Oppure, in quanti si sono abbonati a Netflix nell'ultimo anno e mezzo da quando è iniziata la pandemia? Ma anche banalmente l'acquisto di hardware come iPhone, come iPad, come Mac, per stare a casa e godersi un po' di streaming, un po' di giochi, eccetera. Sempre più persone hanno iniziato ad iscriversi a queste piattaforme, diciamo, per passare un po' di tempo. Ma cosa sta succedendo ultimamente? E l'abbiamo visto anche dalle ultime trimestrali di alcune di queste aziende che in molti ultimamente non avevano più voglia di stare a casa a guardare Netflix e quindi disdicevano l'abbonamento. Questo, ovviamente, ha avuto un impatto negativo sul fatturato dell'azienda. Infatti la perdita degli abbonati di Netflix, soprattutto negli Stati Uniti, in Canada, in tutto il mondo, ma soprattutto in queste aree, è stata davvero pazzesca. E quindi opinione comune di molti che investire in questi titoli sia comunque la sicurezza. Quindi sono titoli super solidi, continueranno a crescere in maniera esponenziale. Io penso che sicuramente siano dei titoli molto solidi e che in realtà continueranno la loro fase di crescita, ma in molti a mio avviso si aspettano erroneamente di poter fare dei game come quelli che abbiamo visto negli ultimi 5-10 anni. C'è questa tendenza a pensare che quello che è successo nel momento, nel periodo recente, continuerà a succedere anche in futuro, ma non sempre così. Infatti se sei stato abbastanza sfortunato di acquistare un ETF Nasdaq nel marzo del 2000, ti ci sarebbero voluti circa 15 anni solamente per tornare in pari. Infatti per via anche della bolla delle dot com, il Nasdaq raggiunse dei prezzi esorbitanti e fino dopo il crollo, fino al 2015, non arrivò nuovamente a quel livello. Quindi ha senso oppure non investire sui titoli tecnologici sulle big tech? Bene, in realtà secondo me dipende molto dalla strategia che uno ha e da quelle che sono le aspettative. Se le aspettative sono di avere dei ritorni come quelli che hanno dato queste aziende negli ultimi 5-10 anni, le aspettative potrebbero essere deluse. Se uno invece non si aspetta grandi cose e vuole ribilanciare un po' il portafoglio, potrebbe essere anche parte di una buona strategia. Ovviamente secondo me ci sono anche delle eccezioni. Mi viene in mente per esempio una tra tutte Alibaba, che nonostante sia una big tech, la reputo un'azienda estremamente sottovalutata in questo momento, quindi con ottime potenzialità di crescita. Per via principalmente del problema con il governo cinese, che ne ha limitato la crescita perché molti investitori si sono spazientiti e si sono spaventati nell'investire in un'azienda come Alibaba. Però sta succedendo a mio avviso in questo momento con Alibaba quello che è successo con Facebook negli ultimi 2-3 anni. Quindi per via di tutti i problemi da Cambridge Analytica, la privacy eccetera, molti investitori non si fidavano di investirci, ma poi ultimamente abbiamo visto una bella crescita da parte dell'azienda. Poi sicuramente l'avanzamento tecnologico stando sempre più veloce, anche molto più veloce dal 2000 al 2020, quindi sicuramente anche questo è un punto da tenere in considerazione. Però personalmente, a meno che queste aziende non se ne escano fuori con un qualcosa di rivoluzionario, di straordinario, in questo momento personalmente non mi interessano tantissimo come investimenti. Le guardo, le osservo, cerco di capire quello che sta succedendo, però ripeto, la mia opinione è che in questo momento ci possono essere delle opportunità migliori in altri settori e magari in aziende capitalizzate molto meno. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti invece voi che cosa ne pensate se possedete queste aziende perché magari avete una strategia di investimento particolare oppure se anche voi ritenete che la crescita prossimamente non sarà così elevata, hanno già scontato parecchia crescita. Ovviamente, come al solito, ragazzi, non dimenticatevi anche di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale se già non l'avete fatto. Io direi che anche per questo video è tutto. Noi ci rivediamo molto presto nel prossimo.